del Giappone e quindi un modo di accoglierli coerente. Non credo tra l'altro che noi abbiamo mai avuto, ricevuto da un'altra nazione europea o del mondo una serie di documentari così dal 2006 al 2012 così fitta. Culture molto diverse ma poi la cultura si esprime qui dove c'è il barocco, le lingue vengono superate proprio dall'espressione artistica di quello che c'è effettivamente di questa bella matrice in pietra che il Gagliardi studiò alla perfezione. Sicuramente questo li ha affascinati moltissimo come l'idea di una città fantasma come Nota Antica e un po' di tutte le città distrutte ma quello che mi hanno raccontato che li ha emozionati particolarmente è l'idea del saluto alla primavera con i fiori. Noi sappiamo quanto il Giappone si è legato anche a queste tradizioni di festa legate ai fiori e la cura che hanno con gli eventi quasi religiosi con i fiori di pesco eccetera quindi si è sposata in maniera straordinaria con questo legame dalla Sicilia al Giappone. E l'ultima cosa, ci siamo già perché sono le 13 e qualche cosa insomma fra poco si andrà a pranzo, parlaci della cucina di noto per quanto riguarda anche il pranzo pasquale e dei dolci. Ma il mio pranzo pasquale quest'anno per la prima volta è anomalo, sarà a Polenta. Tradisci, tradisci questo con le origini della famiglia della mia compagna per cui si festeggerà. Hai fatto un gemellaggio con bossi. Si festeggerà in maniera, diciamo, diversa però la nostra terra è ricca, le tradizioni della Sicilia orientale sono ricchissime, quindi offrono un'infinità di piatti pesanti. E poi i dolci, i dolci, i fasti. Un buon pomeriggio di riposo dopo il pranzo. Una cassatina siciliana ci vuole. È mancabile qualunque sia il pranzo principale. Ok, grazie Vincenzo Belfiore, ci sentiamo in altri momenti, buona giornata e buona Pasqua. Allora, continuiamo quasi, siamo quasi alla fine di questo collegamento, di questa diretta di Canale 8 con la splendida città di Noto, da dove vi abbiamo fatto vedere le immagini del rito pasquale della Paci. Uno dei riti, abbiamo detto, più seguiti. Avete visto quanta gente, quanta folla, quanti turisti soprattutto ci sono, abbiamo incontrato sia a Noto che anche ad Avola, nella prima diretta che abbiamo fatto, prima di mezzogiorno dalla piazza centrale di Avola. E come vedete, ancora passano da Corso Vittorio Emanuele turisti che rimangono entusiasti, che con le loro macchine fotografiche e telecamere filmano questa imponente scalea con la facciata della cattedrale, ma anche di tutti i palazzi che contornano questo giardino di pietra. Ecco, con queste immagini, mi dicono anche dalla regia di Sebiroccaro, noi possiamo chiudere questo momento dedicato al rito pasquale dell'incontro fra la Madonna e il Cristo risorto. Ringraziamo tutti voi per averci seguito anche in questa occasione in diretta su Canale 8 e facciamo i migliori auguri di una serena Pasqua e vi diamo appuntamento con le altre trasmissioni, con le altre dirette, con gli altri avvenimenti che la vostra TV amica Canale 8 vi propone quotidianamente. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.